Ciao Valentina, ti do carta bianca. Io sono Michelangelo Iosa, giornalista e scrittore, e ti parlo dell'ultima grande età dell'oro. Forse non solo una delle ultime grandi età dell'oro del Novecento, ma forse dell'intera storia dell'umanità. Parliamo dei favolosi anni Sessanta. Esattamente Sessant'anni fa una città nel mondo, Londra, diventava la capitale di tutte le mode, di tutti i modi, di tutti i riti, di tutte le musiche, di tutti i film. Insomma, diventava l'epicentro del mondo. E Londra, la Swinging London, come viene definita dal Time, diventa davvero la spugna che tutto assorbe e tutto rimanda, trasformando i linguaggi, riuscendo ad abbracciare tutte le arti e raggiungendo i cinque continenti. Io ho raccontato tutto questo in questo libro, che si intitola Swinging Sixties, e in copertina ci sono tanti indizi di quella Londra degli anni Sessanta. L'ho scritto con Franco D'Assisti, critico cinematografico di Radio 24, del gruppo Sole 24 Ore, e insieme abbiamo voluto raccontare i miti e i riti della Londra degli anni Sessanta. Ci sono i Beatles, naturalmente, c'è James Bond, c'è il mirino con il colore della bandiera inglese, la Mini Cooper nera, autosimbolo degli anni Sessanta, il Pullman a due piani rosso, Twiggy, la modella grissino, e naturalmente Carnaby Street, la strada delle mode degli anni Sessanta. La Londra degli anni Sessanta è una vera bomba esplosiva. Nel 1962, il 5 ottobre del 62, ed è incredibile questa coincidenza, lo stesso giorno escono nei negozi di dischi e nei cinema il primo disco dei Beatles, Love Me Do, e il primo film di James Bond, Doctor No, che in Italia diventa Licenza di uccidere, con uno straordinario Sean Connery, con Ursula Andress, con il suo bikini bianco che entra nel mito. Ebbene, da quel giorno, Londra, la cultura popolare e il mondo non saranno più gli stessi. Merito della Swing in London. Nel nostro libro abbiamo voluto accompagnare per mano i lettori, tra le strade di Londra, a Carnaby Street, tra stivaletti, caschetti, minigone, tassi neri, ma anche pullman a due piani e mille colori naturalmente straordinari, in una Londra che dettava legge nel resto del mondo. Da Michelangelo Diossa, un saluto agli amici di Carta Bianca. Ciao Valentina!